Applausi interminabili per il concerto Mozarti il piacere della musica che ha conquistato la platea gremita di pubblico dei lunedì del Bellini. Una rassegna di ingresso gratuito per la stagione musicale svelamenti al teatro Regina Margherita di Caltanissetta ad esibirsi il quartetto d'archi con Raffaello Pilato e Aldo Traverso al violino, Marco Traverso alla viola ed Emanuele Lamosa al violoncello. Il concerto realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Stato Vincenzo Bellini di Caltanissetta. Riteniamo che la musica possa essere anche una forma di abbellimento dell'animo della nostra società. Questo centro Sicilia che per troppo tempo è stato maltrattato, è stato bistrattato, che oggi vede un'istituzione che è un conservatorio di Stato che diventa insieme al Comune di Caltanissetta e insieme alle istituzioni un elemento propulsore di cultura. Un elemento propulsore di cultura è un elemento propulsore anche di economia perché non dobbiamo dimenticare che tutto ciò che noi facciamo serve al territorio e il territorio serve a noi. Ci scambiamo chiaramente delle abilità, delle risorse, questo è molto importante ed è per questo che è bello anche vedere fare rete perché è bello vedere le istituzioni che cominciano anche a comprendere e a fare rete con la nostra istituzione culturale e soprattutto il pubblico che è sempre più attento e sempre più interessato ai concerti. Un programma scelto che ha raccontato l'evoluzione compositiva di Mozart dove la drammaticità e i contrasti in termini di ritmo, la melodia e l'armonia hanno catturato il pubblico fino all'ultima nota dal quartetto per archi numero 3 in sol maggiore fino alla piccola serenata notturna. Ringraziamo la risposta della cittadinanza. Questa sera assistiamo al terzo concerto della stagione concertistica. Il primo, lo ricordo tanto per fare un escursus veloce, è stato il concerto di Natale con il gruppo di fiate. Dopo abbiamo avuto il gruppo dei flautisti, i flauti in festa. Dopo questa sera facciamo il concerto, un omaggio a Mozart con il nostro quartetto proposto dai nostri docenti interni, dal primo violino maestro Raffaello Pilato, dal secondo violino maestro Aldo Traverso, dalla violoncellista Emanuela Mosa e dal violista Marco Traverso. Dopo successivamente avremo l'operina dove stiamo impiegando parecchie forze, dove avremo sia l'orchestra che è composta dal dipartimento di archi e di fiati, con il dipartimento di canto, regia, ci sarà un po' di tutto. Il prossimo appuntamento sarà il 20 marzo con Bastiano e Bastiana di Mozart.